Giuseppe Larivera non si è mai parlato di trasporto pubblico a Termoli come in quest'ultima settimana. In molti chiedono a livello istituzionale e sindacale qual è lo stato dell'arte del project dopo l'assegnazione del nuovo appalto alla GTM. L'esecuzione del project, di ciò che noi abbiamo proposto, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo completato la realizzazione della rotonda davanti al terminal bus che ricordo a tutti i cittadini termolesi che c'era prima di questo intervento la media di un incidente a settimana, dopo l'intervento di questa rotonda si è completamente azzerato gli incidenti che sono davanti al terminal dove c'era un quadrivio senza nessunissima protezione per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. Al parco voglio ricordare che prima del nostro intervento la condizione igienica del parco era penosa al punto che noi prima di prendere possesso di questa struttura per la gestione abbiamo tirato fuori quattro camion di immondizia, anche immondizia particolare, ferrosa, gomme e quant'altro. Allo stato attuale presso il parco di Termoli sono abbandonati erbetta sintetica dei campi precedentemente al nostro intervento istituiti totalmente all'abbandono. Sono stati presi e curati da noi quando le intemperie e i vandali li avevano sparsi per tutto il parco comunale. Abbiamo aperto una piscina olimpionica dopo gli investimenti pubblici regionali un'attesa che il comune, i cittadini e i turisti che si recano a Termoli aspettavano da 35 anni. Quest'anno abbiamo avuto 3.000 presenze di cittadini termolesi e di turisti che si sono rivolti a questa struttura per il loro tempo libero per gli allenamenti di atleti. Abbiamo concluso un importante accordo nazionale con la Federazione Italiana Nuoto per l'allestimento della piscina con un pontone che consenta agli atleti di allenarsi e abbiamo concordato e sottoscritto con la FIN la possibilità di fare 12 eventi nazionali presso la piscina comunale di Termoli olimpionica. Stiamo lavorando per la realizzazione e a breve il montaggio di uno spazio coperto per i ragazzi che vorranno trascorrere, specialmente d'inverno, i loro giochi e quindi una sorta di parco giochi coperta più grande del sud Italia. Abbiamo ordinato 8 autobus nel lontano 2000 ottobre 2021 alla società Iveco Tessitore di Vasto. Purtroppo i tempi di attesa sono lunghissimi dato anche il conflitto bellico che ha ritardato completamente la consegna dei mezzi. 8 autobus così come da progetto, Euro 6 gasolio. In arrivo prossimamente non appena ce li consegneranno. Sarà realizzata brevissimo la pensilina attrezzata presso la stazione di Termoli che consenta sia la possibilità di ospitare autisti durante la sosta ma anche i cittadini utenti in uno spazio refrigerato d'estate e riscaldato d'inverno con un totem per l'emissione dei biglietti ma che per la sua installazione, essendo che recupera denaro, ha bisogno di questa struttura per potersi installare sopra telecamere di sicurezza. Non riusciamo a fare una bigliettazione diffusa sul territorio attraverso soprattutto attività pubbliche dei tabacchi perché nessuno, interpellati da noi, ci dà la garanzia con una fiduzione per il maneggio del denaro. Tutti si rifiutano di fornire questa fiduzione e noi non possiamo correre il rischio che i danari dei cittadini vadano poi spersi per atti di rapina e soprattutto per la non possibilità di proteggerli con una fiduzione da parte dell'emissione. Stiamo facendo questo attraverso il personale presso il terminal di Termoli e quello che verrà istituito presso la stazione ferroviaria di Termoli. Oltre questo stiamo lavorando sulla possibilità di creare tra il parco di Termoli e la zona del centro città la possibilità di avere del bike sharing ma che purtroppo al momento non c'è un percorso da poterlo percorrere. Stiamo aspettando che ci sia in qualche modo una infrastruttura idonea al transito e allo svolgimento di questo percorso in una zona, tra l'altro quella della discesa di Molinello altamente frequentata da traffico dato il doppio senso di circolazione. In pratica stiamo svolgendo il nostro lavoro con molta calma con tanti investimenti fatti e che faremo soprattutto e penso a quello più importante che è la copertura della piscina comunale che però va discussa con l'amministrazione pubblica perché ci sono alcuni problemi dovuti ad una esplosione dei costi dopo la guerra per quanto riguarda la infrastruttura da realizzarci sopra. Però è un tema che stiamo discutendo è un tema che stiamo valutando è un tema che stiamo affrontando. Rispetto alle polemiche che ho letto che ho sentito anche attraverso le colonne Termoli online purtroppo devo rilevare che fare la polemica è la cosa più facile di questo mondo soprattutto se poi viene da un'organizzazione sindacale che dovrebbe preoccuparsi di ben altro anziché preoccuparsi del tempo di realizzazione degli investimenti ma questa è un'altra cosa la Faisa è nota alle cronache è nota alla nostra azienda che da dieci anni sono in una continua polemica in un continuo conflitto che però devo dire a onor di verità non ha portato neanche un centesimo nelle casse dei dipendenti nelle buste paghe dei dipendenti il ruolo del sindacato dovrebbe essere dovrebbe essere in maniera del tutto prioritaria questa purtroppo noto che hanno una loro ragione di vita solo se attaccano il gruppo La Rivera come altri in questo comune Per quanto riguarda il progetto relativo al parco c'è stato anche un affondo particolarmente rovente per la questione degli alberi per il taglio di alcuni esemplari all'interno appunto del parco comunale e a che punto sono i progetti per la realizzazione dei famosi parcheggi? I parcheggi stanno seguendo purtroppo un iter con il comune a seguito proprio delle continue lamentele, dei continui attacchi che la nostra società e quindi ciò che abbiamo proposto nel project stanno ricevendo da varie persone penso alle famose interpellanze ormai cicliche e ciclostilate da parte di qualche consigliere comunale Gli alberi che sono stati abbattuti sono stati concordati con il dottor Maio che è il riferimento nostro per la gestione del parco e sono stati abbattuti per due ragioni semplici Uno perché la loro inclinazione era particolarmente pericolosa rispetto alla incolumità delle persone e due perché dovevano ospitare un luogo dove spero ci saranno tanti bambini che vorranno usufruire di questa infrastruttura Allo stesso modo è stata fatta una potatura importante ai pini che si trovano all'interno della piscina comunale che purtroppo qualcuno abbiamo dovuto chiamare ed è agli atti l'intervento dei Vigili del Fuoco quando una mattina per fortuna non c'era nessuno si è spezzato per le intemperie un grosso ramo di un pino che se fosse accaduto nel momento in cui c'erano le persone in quel posto credo che oggi la racconteremo in un altro modo siamo molti attenti alla sicurezza delle persone che frequentano il parco e non appena vediamo che c'è l'opportunità di rilevare qualcosa che possa nuocere alla incolumità pubblica immediatamente interveniamo siamo stati autorizzati tra l'altro e per nostra esclusiva volontà abbiamo anche offerto al Comune di Termoli la sostituzione di uno a tre di ogni albero che noi abbattiamo non per un nostro volere ma per un fatto solo e esclusivamente di incolumità pubblica abbattiamo un albero ne piantiamo tre Riferendoci sempre ai parcheggi se non erro adesso l'attenzione spostata sul piazzale antistante Rio Vivo Sì, lì perché purtroppo gli alberi sempre questi alberi che credo non siano stati valutati nella loro messa a dimora in maniera oculata perché gli alberi, i pini crescono in maniera molto alta hanno un peso molto molto importante e purtroppo le radici non sono di profondità ma sono di superficie e le intemperie e un cattivo tempo potrebbe seriamente compromettere la loro stabilità per cui credo che sia prevista l'abbattimento di quei pini e il ripristino con piante che hanno un minore impatto rispetto all'opportunità di poter cadere o meno a seguito di un'esposizione fortissima a fronte mare C'è anche un aspetto che riguarda eminentemente i dipendenti della GTM ed è quello sulla contrattazione di secondo livello che alcune sigle con cui vi eravate seduti al tavolo avevano proposto Il contratto di secondo livello passa attraverso la interlocuzione tra tre soggetti l'impresa che svolge in nome e per conto della regione i servizi pubblici e i lavoratori purtroppo non riusciamo da dieci anni a sederci intorno a un tavolo perché purtroppo con i sindacati non abbiamo quasi nessuna opportunità di costruire qualcosa dato la loro perenne, continua e ormai triste polemica nei confronti degli imprenditori molisani specialmente del trasporto La GTM con questa nuova configurazione da meno anni comunque il gruppo La Rivera a Termoli gestisce il trasporto urbano ormai da quasi 40 anni chi la sta intervistando è un storico utente del trasporto urbano uno dei pochi questo ci fa piacere perché il trasporto urbano viene vissuto un po' come un servizio di serie B nel senso che chi usa il mezzo urbano cosa che non accade per esempio al nord dove è sinonimo di civiltà c'è futuro per il trasporto urbano A Termoli assolutamente sì però dopo i tagli scellerati che sono stati fatti dalla regione Molise nei confronti dell'unico comune che ha un aumento strutturale di presenze turistiche e soprattutto di crescita demografica appare quantomeno inopportuno tagliare i servizi purtroppo le logiche politiche di questa regione vanno nell'esatto contrario di ciò che è un trasporto pubblico moderno quello che lei citava di come si muove al nord un servizio pubblico le voglio ricordare che a Milano i tempi di avvicendamento di due autobus è di 5-10 minuti da noi di 45 minuti questa la dice lunga su come la politica regionale valuta il trasporto pubblico in località turistiche avere le corse finali alle 22 chiaramente non può incentivare soprattutto il trasporto di giovani che poi sono costretti a muoversi con mezzi pericolosi come possono essere di sera i ciclomotori purtroppo sì questa è una triste realtà però la coperta è questa già noi e nessuno ne fa menzione nel project abbiamo offerto per queste ragioni turistiche al comune di Termoli 64.000 km gratis per l'effettuazione dei servizi verso i Lidi e verso le nuove infrastrutture che ha realizzato il comune di Termoli parlo del lungomare nord e del lungomare dove ci sono la maggior parte dei siti balneari nessuno cita un dato estremamente positivo che quest'anno abbiamo trasportato 35.000 persone questo è un dato che non interessa né a quei consiglieri che dovrebbero dare un contributo a far crescere questa regione questo comune e né tantomeno ai sindacati che si dovrebbero preoccupare della sicurezza anche dei cittadini che si muovono all'interno di un comune il fatto che non hanno utilizzato il mezzo privato ma hanno scelto il mezzo pubblico seppur in maniera gratuita ma questa è stata una scelta della nostra azienda di offrirla al comune di Termoli per quanto riguarda invece l'Interland ci ricordiamo che quando venne aperto questo terminal ormai sono passati più di 20 anni l'allora assessore Nicola Felice aveva istruito un progetto per allargare il trasporto urbano da Termoli ai comuni come Petacciato come San Giacomo Campomarino per uscire dall'alveo del trasporto extraurbano che ha dei costi diversi per il tipo di macchine che vengono utilizzate e quindi creare questa sorta di percorso urbano di secondo livello c'è qualcosa che può essere ripreso di questa idea lei pur non essendo un trasportista le devo fare i complimenti perché ha centrato un problema che risolverebbe non solo in maniera importante la mobilità tra Campomarino Termoli e Petacciato Marina Montenero Marina con un collegamento strutturato che metta in collegamento queste località turistiche con i mezzi pubblici anziché con i mezzi privati le do soltanto un riferimento trasportistico i trasporti sono concepiti anche in un luogo come Termoli che ha altissima densità di popolazione turistica da giugno fino alla fine di agosto senza nessun autobus dedicato al turismo gli autobus sono dedicati soltanto agli orari scolastici e agli orari per i turni lavorativi presso il nucleo industriale rispetto al turismo non c'è neanche un chilometro dico un chilometro sottolineo un chilometro dedicato alla risposta turistica gli unici chilometri sono questi 64 mila chilometri offerti dalla GTM questa cosa è molto triste constatarla ma queste non possono passare queste politiche come lei evidenziava non possono passare per l'iniziativa sempre e solo di un privato tra l'altro anche a costo zero dovrebbe essere nella sensibilità e nella gestione dei finanziamenti per il trasporto pubblico e per la mobilità non molto spesso per crearsi bacini per i ritorni elettorali ma per avere un chiaro riferimento alle necessità dei cittadini provo lei a immaginare se ci fossero delle corse ogni quarto d'ora tra Campomarino e Termoli con un mezzo pubblico quanti ragazzi e quante macchine si toglierebbero dai motorini e dalle macchine se solo ci fosse un collegamento molto semplice molto banale di questo tipo con due navette che vanno avanti e indietro soprattutto nelle ore notturne quando purtroppo i giovani fortunati loro hanno la possibilità di vivere la loro spensierata e meritata estate dopo un anno di scuola sarebbe una grande cosa però mentre io e lei ne stiamo parlando in Molise si finanziano molto spesso servizi che non servono a nessuno e nessuno ha la sensibilità di creare qualcosa per dare un contributo alla mobilità collettiva specialmente in un comune come Termoli che ne ha un bisogno immenso voglio solo ricordare a chi ci ascolta che il comune di Termoli dieci anni fa aveva al suo interno circa 900.000 km a disposizione per la mobilità la regione grazie ai due governi che hanno preceduto questo attuale hanno dimezzato quasi di 400.000 km la possibilità di creare mobilità in regione con un comune che d'estate forse arriva 80.000 persone vi sembra una cosa normale questa o deve essere nell'attenzione di un privato questo dovrebbe stare nelle corde e nella sensibilità di un pubblico amministratore speriamo che con il Presidente Roberti questi ragionamenti possono essere fatti perché negli ultimi dieci anni non siamo riusciti a parlare con nessuno infatti è stato varato un piano che si chiama servizi minimi che insomma relega la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico che sia extraurbano e che sia urbano davvero ai minimi termini il nome l'hanno azzeccato e mi prendo io la responsabilità di questa affermazione perché parlo da utente oltre che da osservatore diciamo ventennale del territorio per quanto riguarda il trasporto extraurbano perché l'abbiamo sfiorato parlando appunto della possibilità di andare oltre termini con i collegamenti solo la sanità produce più conflittualità del settore dei trasporti in Molise perché questo credo che sia ormai un fatto squisitamente culturale abbiamo una classe sindacale ridotta ai minimi termini da un punto di vista della cultura del trasporto i sindacati negli ultimi dieci anni fanno solo vertenze non c'è stato mai un tavolo in cui si sia discusso di programmazione e di sistemazione dei problemi atavici che questa regione ha abbiamo una classe politica che ha sbandierato negli ultimi anni il bando di gara come la rivoluzione per la nuova era del trasporto pubblico locale quando i giudici hanno letto quello che hanno prodotto questi signori sono stati sonoramente bocciati rimandati a casa e si deve rifare tutto da capo che tipo di speranze di interlocuzione di programmazione con la nuova governance con il presidente Roberti il presidente Roberti che io saluto cordialmente e che conosco per quanto riguarda tutta la interlocuzione avuta per la gestione del progetto del bando di gara di Termoli credo che sia la persona giusta con cui interloquire per creare un nuovo futuro per questa regione è chiaro che bisogna partire da un dato il Molise si impoverisce sempre di più chi rimane in Molise sono sempre o solo i giovani fino alla scuola dell'obbligo o gli anziani lo spopolamento interno del Molise è una cosa inesorabile i collegamenti possono giocare un ruolo importante perché rimane l'ultimo baluardo per il servizio verso i paesi all'interno e montani del Molise più noi penalizziamo la possibilità della mobilità tra i centri di attrazione importanti che sono i Sernia Termoli e Campobasso e l'Alto Molise e il Molise Centrale più noi depauperiamo questa opportunità e più lo spopolamento diventa inesorabile ma mi sembra di capire che finora hanno fatto esattamente il contrario di ciò che andrebbe fatto togliamo i chilometri nei posti importanti e li diamo molto spesso ad amici parenti e compari spero che il nuovo presidente intorno a un tavolo valuti esattamente ciò che è utile per questa regione e ciò che invece viene spesso spacciato per rivoluzione ma non è più e nemmeno che un operare con l'amministrazione pubblica e i suoi atti per fini personali andrebbe un po' derubricata questo modo di fare perché questo modo di fare negli ultimi dieci anni ha creato soltanto un abbassamento dei numeri di utenti trasportati in maniera talmente importante che è il caso che si inverta questa tendenza se no chiudiamo i trasporti perché più passa il tempo e più viaggiano meno persone una ragione ci sarà perché forse non c'entrano l'obiettivo della domanda di mobilità da parte dei cittadini i trasporti non possono essere utilizzati dal politico di turno per la propria campagna elettorale devono essere messi a disposizione visto che sono anche la seconda spesa regionale in termini di spesa pubblica per i cittadini i cittadini non sono mai al centro di un tavolo molto spesso sono beghe tra imprese sindacati lavoratori i cittadini non appaiono mai i sindacati aggrediscono è l'unico loro motivo di esistere il nostro gruppo negli ultimi dieci anni voi sentite qualche polemica nei confronti di qualcun altro si aggredisce solo l'ATM detto questo è chiaro non si produce niente non si è prodotto niente non arriveremo mai a niente voglio solo ricordare a chi ci ascolta o almeno quelli che sono competenti del settore che il Molise sta aspettando un contratto integrativo di secondo livello dall'89 sono passati 40 anni una ragione ci sarà perché non si riesce ad arrivare a fare un solo passo avanti la polemica non produce nulla credo che vada costruito serenamente un nuovo futuro speriamo soltanto che le nuove interlocutori con il presidente porti a qualcosa di buono io sono molto speranzoso perché conosco qual è la sua determinazione io ritengo solo che il presidente debba fare una sola cosa preoccuparsi dei cittadini e non delle polemiche tra imprese e sindacati prima i cittadini poi tutto il resto per rassicurarla c'è da dire che negli ultimi tempi l'oggetto delle polemiche sindacali non è solo l'ATM ci sono anche altre compagnie ma perché tutti se la prendono con l'ATM anche gli stessi pendolari che spesso inviano foto video delle condizioni degli autobus perché l'ATM è così antipatica guardi l'ATM fa tante cose quotidianamente in questa regione mentre io le stiamo parlando la GTM fa sempre parte del gruppo è stata scelta dalla prefettura per andare a prendere 50 migranti ad Agrigento per trasportarli per la ridistribuzione del piano nazionale dei migranti l'ATM fa tante belle cose ha fatto forse la cosa più straordinaria che negli ultimi dieci anni si è verificata in questa nostra regione la realizzazione del collegamento tra il Molise e la Croazia cioè con un mondo nuovo sono stati capaci le polemiche le invidie le detrazioni e quant'altro chi le conosce tutti i fatti hanno fatto in modo che l'unica cosa che mettesse in collegamento il Molise con il resto del mondo andasse naufragato ci sono riusciti oggi tutti ne parlano che il Molise deve avere una via di uscita verso il mondo dei trasporti verso il mondo dell'interscambio modale verso il mondo dell'apertura ai nuovi mercati dell'est non l'abbiamo realizzato abbiamo gestito per quattro anni un collegamento che addirittura portava i militari stanziati in Kosovo dell'ONU passavano per Termoli per ritornare a Roma purtroppo le cose belle non fanno mai notizia le cose che invece sono una più stupida dell'altra spesso riempiono tante e tante pagine di giornali parliamo chiaramente del Termoli Jet sono passati quasi 23 anni dalla presentazione del progetto Termoli Porta d'Oriente che si fece nel vecchio cinema Lumière se non ricordiamo male ai tempi dell'amministrazione montana esattamente la possibilità di avere un collegamento con Spalato o con la possibilità di arrivare in Croazia dove voglio ricordare noi ci mettevamo soltanto 5 ore fu fatto perché il Termoli Jet aveva un unico scopo che nessuno conosce quello di avere l'opportunità attraverso un mezzo con caratteristiche internazionali di creare a Termoli il posto di frontiera internazionale con un paese extra web noi lo abbiamo realizzato grazie al lavoro alla costanza di politici lungimiranti quando abbiamo realizzato questo collegamento il porto di Termoli è entrata nella dinamica dei porti trasfrontalieri per poter effettuare poi questi collegamenti solo che non abbiamo potuto mettere una nave commerciale perché i fondali di Termoli come lei saprà non consentono l'ingresso di navi importanti ma il Termoli Jet aveva solo la funzione della prima fase del progetto quello di avere le autorizzazioni per poter arrivare dopodiché si sarebbe dovuto permutare con una nave commerciale che consentisse anche il passaggio di camion autobus e macchine verso un mercato infinito che è quello dell'est Europa chiudiamo con una domanda provocatoria e ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima sull'ATM perché il gruppo Larivero I'm Holding si occupa di tante cose ma questo territorio ha la contezza di quello che rappresenta perché siete un po' invisi chi opera purtroppo deve subire queste cose se lei fosse un giornalista tra i più bravi rispetto agli altri sicuramente l'attaccherò ogni giorno io spero che lei non abbia la stessa sorte che ha l'ATM che purtroppo viene denigrata puntualmente da tutte le parti noi abbiamo realizzato cose importanti abbiamo realizzato un centro commerciale che ospita 300 posti di lavoro abbiamo realizzato cose immobiliari e creato posti di lavoro negli ultimi anni che non so quale altro gruppo ha fatto privatamente in Molise purtroppo se sei molto presente sei anche molto in viso ma questo non ci preoccupa ci dispiace solo che quando pensiamo a fare investimenti di un certo rilievo non pensiamo più al Molise perché è una terra molto ostile non pensiamo più